Sta meglio Donato Marocchelli, l'attaccante della Big Tricks Trinitapoli, aggredito domenica scorsa al termine della sfida di prima categoria con il Celle San Vito. Oggi probabilmente uscirà dall'ospedale di Miccoli di Barletta, dove è stato operato lunedì scorso alla mano destra per una lussazione del secondo metacarpo. A raccontare cos'è accaduto, il presidente della Big Tricks Rocco Molinaro. Inspiegabilmente alla fine della partita un gruppo, perché erano 4-5 giocatori della squadra del Celle San Vito, hanno aggredito senza motivo altri giocatori della Big Tricks Trinitapoli, che naturalmente sorpresi e sotto certi aspetti quasi sconvolti da questo gesto insano sotto certi aspetti, in un ambiente sportivo, hanno avuto la peggio e sono dovuti ricorrere alle cure mediche. In maniera particolare il nostro attaccante di riferimento, il nostro bomber, che in quella stessa domenica ha realizzato il gol del pareggio, è stato vittimo di un'aggressione violenta, un'aggressione per la quale ha riportato delle lesioni personali gravi, tanto che si è stati costretti a sottoporlo ad un intervento chirurgico che è durato tre ore. Una partita di calcio non può trasformarsi in una rissa, osserve il presidente della Big Tricks Molinaro. La squadra di Trinitapoli sarà costretta a privarsi di Marocchelli, migliore attaccante con 12 gol realizzati finora, sino al termine della stagione. Ora il club bianco-rosso confida del buonsenso della giustizia sportiva e soprattutto si augura che certi episodi non possano ripetersi per una partita di calcio dilettantistico, si legge nella nota ufficiale rilasciata nei giorni scorsi. La federazione che ingloba un po' tutti questi settori, anche quelli disciplinari, quelli giudicanti, dovrebbe tener conto di quello che avviene all'interno del campo e fuori dal campo e cercare di prevenire questi episodi incresciosi che non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio. Noi come dirigenti ci adoperiamo tutti i giorni per cercare di rimarcare il significato dello sport, di fare sport, i valori che stanno alla base dello sport e del calcio, visto che è quello che pratichiamo prevalentemente, facendo capire che è vero che attraverso la pratica sportiva ci si deve divertire, si deve praticamente poter sognare e immaginare di essere grandi giocatori per i giocatori, grandi mister per i mister, grandi presidenti per i presidenti, però non bisogna disconoscere il fatto che comunque si tratta di un gioco. Grazie.